Presa del Lecce perché Torino-Lecce termina 1-2 Il Lecce fa l'impresa appunto vincendo contro il Torino Questa partita doveva essere una partita abbastanza tranquilla per chiudere la terza giornata di campionato Partita che non è stata assolutamente tranquilla Partita che ha sofferto tantissimo il Torino perché il Lecce ha fatto una strepitosa e grandissima partita Ovviamente il Lecce negli ultimi minuti ha sofferto ma è una cosa abbastanza ovvia Il Torino invece non riesce a fare il gol del 2-2 o meglio non riesce a concretizzare le tante azioni che ha avuto Soprattutto occasioni e azioni che doveva concretizzare De Silvestri Molte volte ho stato di testa comunque De Silvestri ha fatto una pessima partita Soprattutto per la sua non finalizzazione perché ha avuto tantissime palle e golle e non è riuscito a sfruttarle Il Torino che tra l'altro ha segnato solamente su calcio di rigore Questa cosa non è da sottovalutare perché sta a significare che il Torino non ha praticamente finalizzato le occasioni che ha avuto E ce ne sono state di occasioni per il Torino Talvolta un Belotti troppo egoista E quindi magari quando un giocatore era solo Adesso mi viene in mente nell'occasione del secondo tempo Zazza che la passa a Belotti in profondità Belotti poteva fare magari una finta e passarla di nuovo al suo compagno Zazza con la numero 11 E invece non è successo assolutamente nulla perché Belotti voleva il secondo gol Belotti ha fatto l'egoista Ma oltre questo partita assolutamente pessima ripeto da parte dei due esterni O'Laina e dei Silvestri Belotti tutto sommato ha fatto una bella partita però ripeto troppo egoista Cercava sempre il gol quando poteva benissimo passarla E comunque risolverla da capitano perché Belotti è capitano del Torino E invece pensava solamente a se stesso pensava a fare il gol eccetera eccetera Un capitano non si comporterebbe mai così Belotti penserebbe prima al bene della sua squadra e poi al bene di sé Ovvero i bonus che potrebbero essere dati ai fanta allenatori che hanno preso Belotti Ai gol agli asi insomma al piacere personale Un capitano deve pensare prima al bene della propria squadra Belotti non ha fatto questo E secondo me alcune azioni potevano essere concretizzate nella giusta e dovuta maniera Invece Belotti secondo me ha sprecato tutto soprattutto per questo suo egoismo Comunque Torino che ripeto l'unica pecca del Torino è non aver finalizzato tante occasioni che ha avuto L'unica pecca però è un deficit che ha costato tantissimo al Torino Perché Lecce ha vinto questa partita col gol di Farias e col gol di Mancosu Il tap in vincente Belotti aveva segnato il gol dell'1-1 su calcio di rigore E in modo inaspettato arriva il gol di Mancosu Perché Lecce stava continuando ad attaccare Nonostante dovesse difendere un punticino che tutto sommato ci stava per il Lecce Invece il Lecce voleva la vittoria Perché aveva capito che poteva fare una partita di quelli incredibili E l'ha fatta sostanzialmente l'ha fatta E ci ritroviamo qua a dire in questo momento che Lecce ha vinto contro il Torino Ma sinceramente il Torino spesso ha queste partite un po' no contro queste squadre di bassa classifica C'erano sempre i pareggini o le sconfitte in casa tra l'altro E infatti questa teoria un po' è vera Perché effettivamente abbiamo visto un Torino che purtroppo per loro ha perso contro il Lecce E dunque niente 9 punti, niente 3 su 3 L'Inter da sola è capolista per il momento della Serie A Per il momento ovviamente sono 3 giornate Cavolo, non è che c'è da avvantarsi Però intanto l'Inter c'è 3 su 3 E il Torino invece non riesce a fare 3 su 3 Poteva fare 3 su 3 e non ha fatto 3 su 3 Quindi il Torino rimane a 6 punti Ragazzi il video è finito Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di iscrivervi al canale Di lasciare like E seguirmi su tutti i miei social Twitch, Instagram e Facebook Trovate tutto in descrizione Tutto questo Ciao ragazzi Ciao